Il lavoro che introdurò oggi si basa appunto su quella che è la diffusione di nuove culture tropicali in Italia, quindi sia una ricognizione, un censimento su quelle che sono le culture tropicali di nuova introduzione ed anche un'analisi su quelle che sono le potenzialità, ma anche le minacce collegate comunque all'agricoltura. E lo dicevamo già in precedenza, non è possibile affrontare un discorso di questa tipologia senza considerare i cambiamenti climatici in atto, che sono un po' il motore di questa nuova transizione anche da un punto di vista agricolo, molto sinteticamente perché se ne è già parlato, se ne parla giustamente molto. Il 2020 ha confermato i trend già osservati, il quarantaquantresimo anno consecutivo in cui le temperature medie globali presentano anomalie positive. In Italia l'anomalia media per il 2020 è risultata di oltre un grado e mezzo rispetto alle registrazioni, alla media precedente, quinto anno più caldo dal 1961. Quali sono le conseguenze nella regione mediterranea? Anche in questo caso sono abbastanza note, aumento delle temperature, diminuzione delle precipitazioni medie annue ed un differente regime meteo pluviometrico, diciamo, con presenza sempre maggiore di eventi meteorologici estremi, quindi intensificazione delle precipitazioni intense alternate a periodi caratterizzati da ondate di calore eccessive con siccità prolungate. L'effetto diretto principale, anche in un'ottica legata all'agricoltura, è quello di un avanzamento della desertificazione. In Italia, come si traduce tutto ciò, l'avanzamento della desertificazione rende maggiormente difficoltose e praticabili alcune delle culture tradizionali. Sono inoltre inevitabili modificazioni sull'assetto sociale, economico, ambientale e paesaggistico, soprattutto nelle regioni meridionali, che sono quelle maggiormente interessate dall'aumento delle temperature medie, e quindi, come si diceva anche in precedenza, si osserva una transizione verso nord e verso altitudini sempre più elevate di molte specie agricole. Questo comporta, appunto, la possibilità di introdurre nuove culture originarie di ambienti tropicali o subtropicali. Quindi, che cos'è incentivata la diffusione di culture tropicali in Italia? Abbiamo visto i cambiamenti climatici in atto. Da un lato, la scarsa redditività di alcune delle culture tradizionali, compensata invece da una redditività piuttosto elevata, da una dinamicità del mercato che caratterizza queste nuove culture tropicali o subtropicali, e allo stesso tempo la disponibilità di spazi agricoli lasciati liberi in seguito alle recenti dinamiche che hanno caratterizzato l'agricoltura italiana, quindi che hanno visto un abbandono, anche cospicuo, di alcune aree interne, con terreni agricoli lasciati in disuso, abbandonati, e dinamiche di migrazione della popolazione che dagli ambienti rurali si sono spostate verso quelle urbane, verso la città. Un focus su quella che è la situazione attuale. Le superfici sono ancora di esigua entità, ma comunque in forte crescita, e secondo Coldiretti la stima è pressoché superiore ai mille ettari di superficie destinata alle coltivazioni tropicali, in rapida ascesa, soprattutto concentrate nel sud Italia, Calabria, Puglia, e in modo specifico Sicilia, che è la regione maggiormente interessata da queste dinamiche. Ora, quali sono le principali culture tropicali introdotte in Italia? Abbiamo sicuramente il kiwi, che seppur è ormai, diciamo, considerato, parte integrante della produzione agricola italiana, è bene ricordare che comunque un'origine tropicale o subtropicale, esattamente originario della Cina meridionale, è stato introdotto in Italia soltanto negli ultimi decenni, in realtà, quindi negli anni 70 del XX secolo, mostrando una adattabilità ottimale alle condizioni pedoclimatiche italiane, tanto che oggi l'Italia è terza produttore mondiale alle spalle di Cina e Nuova Zelanda ed è stato anche primo produttore mondiale. Ha una superficie complessiva superiore ai 26.000 ettari, il 25% condotto e coltivato con metodo biologico. Le superfici si concentrano principalmente tra Lazio, Emilia Romagna, Piemonte, Calabria e Veneto, quindi interessano maggiormente il centro-nord dell'Italia, in questo caso. Seppur dal 2012 la cosiddetta moria del kiwi ha compromesso quasi 6.000 ettari di superficie ed è una problematica in corso notevole. Abbiamo poi il mango, originario della regione indomurmese, con le prime sperimentazioni avviate in Sicilia negli anni 80 del XX secolo, ma prime coltivazioni degne di nota da un punto di vista economico e produttivo si hanno soltanto negli ultimi anni, in particolare dall'inizio degli anni 2000. Il mango ha mostrato una buona adattabilità alle condizioni pedoclimatiche del meridione e inoltre ha un'elevata redditività e una buona richiesta dal mercato nazionale ed europeo. In Italia si coltiva soprattutto in Sicilia, ma anche in Puglia, Calabria e Basilicata. Il successo nel mercato del mango italiano è scrittamente legato alla qualità del prodotto al momento del consumo, perché in appena 24-48 ore è possibile raggiungere le principali piazze dei mercati italiani ed europei, a differenza dei frutti in arrivo dai mercati tropicali che invece impiegano parecchio tempo e vengono raccolti in uno stato acerbo. Presenta comunque delle criticità legate alle basse temperature e al vento. Altra cultura di interesse è l'avocado, anche questo originario da luoghi tropicali, sub-tropicali come Centroamerica, Messico Meridionale, introdotto già nel 1957 di nuovo in Sicilia, ma negli ultimi anni si è diffuso in buona parte del sud Italia. Si è adatto ottimamente alle condizioni pedoclimatiche del sud Italia, ha un'ottima redditività e una richiesta del mercato che è in crescita, in continua crescita. Si coltiva anche questo in Sicilia, Puglia, Calabria, Basilicata, con alcune sperimentazioni che stanno riguardando anche la Sardegna e addirittura il Lazio. La Sicilia di nuovo si presenta come leader nazionale, sia nella produzione sia nelle strategie di marketing. Anche l'avocado presenta delle criticità legate alle basse temperature, ma non nella stessa gravità come invece avviene per quanto riguarda il mango. Inoltre ho inserito anche queste due culture particolari. L'annona, originaria della regione andina tra Perù ed Ecuador, diffusa in Italia in strette aree della Sicilia e soprattutto in Calabria, tanto da guadagnarsi la denominazione comunale di origine Annona di Reggio. Per quanto riguarda la papaya, invece originaria del Messico e Centroamerica, è coltivata soltanto in Sicilia, ma presenta buone immagini di sviluppo grazie alla sua adattabilità alle condizioni pedoclimatiche siciliane e all'elevata redditività. Qua invece c'è una sintesi di tutte le altre culture tropicali presenti in Italia. si va da sperimentazioni che interessano il frutto della passione, la guava, fino ad arrivare addirittura al caffè e la canna da zucchero, con la rispettiva diffusione nelle regioni italiane in cui è possibile trovare queste nuove culture tropicali. Dunque, quali sono però le potenzialità e le minacce collegate all'introduzione di queste nuove culture? Per quanto riguarda le potenzialità, da un lato, è bene segnalare che spesso queste nuove impianti sono avviate da giovani agricoltori locali nel tentativo di recuperare terreni abbandonati, e questo è sicuramente un fattore positivo. Altre potenzialità sono legate all'elevata redditività e anche alla dinamicità del mercato a cui si propone questa tipologia di culture. Un recupero di terreni abbandonati può dare una nuova vitalità all'ambiente rurale, quindi incentivare la ripresa di flussi e relazioni di tipo sociale, ma anche economici e demografici, quindi in direzione dell'ambiente rurale. Creare dunque nuovi collegamenti tra la città e la campagna, tra il rurale ed urbano, richiedono sostanzialmente un approccio che sia il più possibile orientato alla sostenibilità e inoltre sono state avviate anche collaborazioni, sinergia tra gli attori locali, istituzioni e centri di ricerca sostanzialmente universitari. Tutto ciò può anche portare ad una riqualificazione paesaggistica, perché laddove troviamo terreni abbandonati in disuso e in stato di degrado, l'avvio di culture innovative nel rispetto della sostenibilità possono anche portare ad una tutela, ad una valorizzazione degli elementi materiali e immateriali di un paesaggio in parte abbandonato in precedenza. Non ci sono solo potenzialità ovviamente, ma ci sono anche delle minacce. In primo luogo è bene ricordare che si tratta pur sempre di un adattamento a condizioni ambientali, pedoclimatiche differenti rispetto a quelle che sono i luoghi di origine tropicali o subtropicali, con tutte le conseguenze del caso per quanto riguarda eventuali avvenimenti meteorologici o climatici avversi. Una minaccia legata anche alla realizzazione di impianti in aree che non sono proprio vocate alla costituzione di questi impianti e che potrebbe portare alla realizzazione di investimenti sbagliati, quindi non rimunerativi. Una scarsa conoscenza in materia di culture tropicali, perché per noi sono un'innovazione, quindi sono ancora poco conosciute. L'investimento iniziale richiesto dall'attuazione di questi impianti inoltre è elevato, quindi potrebbe essere diciamo uno svantaggio, non un favore, iniziare diciamo un impianto di questa tipologia per i costi iniziali e una rimuneratività diciamo che potrà avvenire soltanto dopo un certo tot di anni. Un problema, una minaccia che potrebbe riguardare inoltre l'introduzione di queste culture è quella legata a una sostituzione immotivata di culture tradizionali, perché potrebbe avvenire che l'elevata redditività possa in qualche modo incentivare l'impiantazione di queste culture, andando a sostituire culture di tipo tradizionale, che invece sono ben legate in equilibrio con l'ambiente circostante, che ancora producono reddito e che sarebbe il caso invece di non andare ad intaccare. La stessa elevata possibilità di realizzare profitti potrebbe in qualche modo attrarre grandi aziende nazionali o multinazionali che solitamente sono orientate prevalentemente al profitto e quindi non hanno una lettura ottimale della geografia locale e non considerano magari le esigenze territoriali e geografiche locali che invece devono essere necessariamente prese in considerazione. Quindi in conclusione è possibile affermare che le culture tropicali nel panorama agricolo italiano possano rappresentare sicuramente una buona occasione per un rilancio economico, sociale, ambientale di quelle aree però particolarmente fragili, quindi quelle aree che sono state interessate da un abbandono, da un disuso dei terreni oppure da una mancata redditività dei terreni legati alle culture tradizionali. E quindi è necessario che comunque vengano rispettate le esigenze e le peculiarità locali con un approccio che sia in grado di realizzare una lettura corretta di quella che è la geografia territoriale. In quest'ottica io penso che la geografia sia necessaria per poter anche programmare le politiche agrarie future nel caso in cui si vogliano inserire o potenziare queste nuove culture tropicali, rispettando quelle che sono le esigenze ambientali, sociali del posto. Io ho terminato la presentazione, vi ringrazio. Grazie. 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 Grazie.